Borletta e Crotone che interviene, vantaggio dell'Udinese con Rodrigo De Paul, manco a dirlo, Crotone 0, Udinese 1, quando sono trascorsi 40 minuti, a tela linea. Crotone. Cosimi che sta per battere questo calcio di rigore in favore del Crotone, a tela linea. Grazie Lopez. Non segue però Ugello l'azione, dunque la sfera. Scusa Rita Lucido, tutto pronto per il tentativo di trasformazione di Simi, fischia l'arbitro, la breve rincorsa, palla in rete, il piattone a mezza altezza che spiazza Musso, il portiere va verso destra, pallone a sinistra e il Crotone dunque si è riportato in parità con Simi che ha trasformato il calcio di rigore. Ancora un tentativo dell'Udinese, De Paul in area di rigore e il gol dell'Udinese, raddoppio di Rodrigo De Paul, bellissima l'azione, la ripartenza immediata con De Paul che si è impossessato di un pallone al limite dell'area, è entrato in area, ha dribblato due giocatori e poi di piatto destro ha fatto secco Cordaz in uscita, imparabile per il portiere del Crotone, è stato spiazzato Cordaz dal centrocampista e capitano dell'Udinese.